Cosa significa fare la ricercatrice? Me lo puoi spiegare con parole semplici? Grazie. Ciao, mi chiamo Maria Rosaria e lavoro presso il laboratorio MBTEC della Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica. Per rispondere alla domanda che cosa vuol dire fare la ricercatrice, io mi sento di dare queste poche risposte. La ricercatrice significa dare speranza a chi ha una malattia di poterla guarire nel tempo, significa trovare la risposta ideale ad un problema dopo aver sperimentato e ricercato a lungo, ma soprattutto significa andare a lavorare con la passione e l'amore che solo voi bambini riuscite a mettere nelle cose. Fare la ricercatrice è avere un binocolo di ingrandimento per quelle cose piccole e capire il posto giusto di ogni singola tessera all'interno di un puzzle. E in ultimo mi sento di dire che fare la ricercatrice è quella cosa che ti permette di dire quando hai un problema, il tuo problema è il mio problema, ti aiuto io. Ciao!